cazzo bellissimo l'omega è l'ultima quella del pass battaglia livello 100 la scia quella stile siamo in live che sfocato è stupendo anche in rapido sono delle cose a legisano ora che avrò non bestemmiate che già mi hanno chiuso un canale sta qua che cazzo è la wonder woman dei proveri pesce da lanza è sfocata della live così no 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 d'archi immetti moderi ma scusami un attimo ma ma sì no niente no vabbè lo scioppo domani dai no lo scioppiamo insieme domani perché più che altro non so se domani sto al pc capito e quindi davo l'account a te me lo scioppo io domani ti facevo la ricarica te ti davo 10 euro a te ma se vuoi dargli a me i 10 euro è certo non ho capito cos'è che hai detto ti davo il mio account di ford a te dato che tu ce l'hai gli altri 10 mila scioppo in attimo e poi domani ti faccio la ricarica sulla paper come non ce li hai no io ho messo solo 10 euro perché non metto che non è la mia carta questa cazzo io voglio fottuto poco qualche mese c'è quello del suo parlo oggi è pure io raga spammate sta live porco sì però ad archi metti pronto porco cancro ma perché mi ha tolto la possibilità di sciopare un altro da 5 ma fu un culo comunque anche la cosa che volevamo fare non si può perché era troppo vantaggioso ci vuole armi e quella di sciopare due volte quelli da 5 perché da capito esatto sì sì capito tutti stanno spammare nella cosa dei g1 è live con mano live live davvero è sciopato pure la nostra c'è mandato per la sciopato pure la nostra e perché la gente shop live non lo sapevi e la spam per ultimo no no perché mi vengono viti Joe Joe spamma la live compra la Michael anche tu questa ma che cosa la mia quella lì che ho comprato io eh non ho abbastanza v-bucket prendi sto link e mandalo da per mandalo ovunque dio bomba idari dai sono diventano cose forte io ma parà 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 però tengo sotto io ti mando i link su facebook se ti mando i link su facebook è perché mi diamo parli lo so lo so so tranquillo c'era c'era tu si è faccio così ma raga ma stavo provando a cercare cazzo eh verti l'ho mutato nel server qualcuno lo può scostare ma non giorno l'ho mutato mutato il gallo canterino dove è andato a finire se l'ha andato giù mi sto vendo no se scemo ma dai ma sto qua lecca lecca ma che cazzo andiamo a montagnole che siamo vicini guarda che bastardi ci sono già quelli con il livello 25 tu hai sempre andato a montagnole cazzo per aprire il cazzo di cazzo oh bisogna fare la sfida dove è montagnole si a destra un fitto spaccato figa lagga come un cavallo cavallo di merda la prima partita mi lagga sempre orca trota ma non è la prima eh ma da quando ho riavviato il gioco si ma sapete è vero che ci sarà pieno di persone che tutti vogliono andare lì per fare la sfida eh cazzo meglio li uccidero a tutti mi sa che non ci arrivo vabbè vedete sto qua con la skin con lo skin del del incotto è cattivissimo questo ok vedo già una cassa michael c'è gente sotto lì ma ma il costante la gamba questo zaino è troppo grande non mi piace oh ale mi sa che ti devo rubare ti devo rubare una cassa ma guarda che dai ale porco occhio dark c'è il vento è un tipo sotto ma non ho detto io non mi ha detto un cazzo ma anche sotto me la siete fregata eh scusa dovevo farlo è morto d'archi ma dovevo difendermi in un modo o nell'altro porca troia ma che cazzo mi fa muoio posta per te ale che cazzo fai eh ho sentito il tipo michael oppio se venite adesso come vi piace con la skin che c'è questo guarda cura zitti zitti piatto bastardo sono morto io sto laggando non riesco a entrare con una cazzo di poca mi lascia le munizioni raga ma mi avete visto entrare dentro da voi io sto laggando qua c'è un pompo se volete oh dov'è dove dove ah raga 277 278 lascia gli in bocca oh f f di forza ho trovato la f come hai trovato la f ma io laggo ale ma fammela prendere figa vuoi stare zitto e morire non te dati stica anch'io puoi prendere anch'io l'hai presa si puoi prenderla pure tu si vaga guarda guarda sei vabbiamo andata porca di quella qua c'è un pompa se vuoi vieni qua e te lo do tanto sono in direzione vieni fatto te l'ho sputato fuori ma ho più sono morto io ma come sei morto beh sì perché non ci arrivavo dove eravate voi è successo un po' prima ma cos'è quella con l'omino ah ora ti dice che stai correndo a fianco qua c'è una cassa quando corri a me mi dice in basso a destra che sto correndo davvero a me no ma è stupido raga mi è uscito un omino che correva ma sei stupido allora posso aprire la cassa scusa l'ho aperta neanche ora mi sa d'arte guarda quanto è brutta quella skin con quello zaino enorme d'archi siamo un del tre che cazzo esatto però scusate sta skin qua che ci avete te ha un culo bellissimo se ci guardate guarda è un maschio è un maschio dai che schifo è già salutato avete razzi è mai fatto bene avete razzi no male raga dobbiamo andare in safe dobbiamo correre non per dirtele ecco la mia roba non per dirtele ma dovresti essere un pochino più veloce a dare le cose ma guarda che stavo cercando di perché devo mettere il gioco grazie cazzo ok si è ripreso il gioco monologo come non detto sono volato indietro di 12 metri dai balletti e non non è il menù e io volevo ah ok è vero che tu giochi con il gioco raga io non ho scudo eh eh io c'ho guarda guarda guardate vicino alla vita guardate vicino alla vita eh c'è lo mino che corre ma no ma no ho più guardati la live vado a vederlo ma probabilmente perché tu hai il joy c'è una cassa ti fai vedere quello che stai facendo ma non c'entro un cazzo questo è mio fatemi aprire la cassa dov'è qua dietro al camion eh ma eh darky darky guardami guardami è vero mi ha ragione darky cosa ho sempre ragione raga oh mi lascia è vero c'è lo mino che corre che non ho scudo mi lasciate il gioco darky look at me mi serve il gioco che non ho scudo come si vede la cassa eh bene puoi sparmarla per tu fai un bordello boia o qualcosa eh lo so eh ti dà jump boost un po' di levitazione e zero danno la levitazione quella dei cosi dell'impasto della pizza darky appena puoi droppami il gioco si non dura tanto non dura tanto darky dio stronzo lag ecco dai però scusa mi sono dimenticato c'è una casa di là zio dobbiamo correre eh l'ho visto anche io la casa bellissimo però se dovesse servire amico raga comunque da chi c'ha ragione lui c'ha il domino che corre vicino la parola vita perché probabilmente visto che gioca col joystick c'entra un pa vedere cosa che sta fa c'è perciò c'è una giampa che ho fatto un po' che corrono non da subito boi ma non può vedere c'è mente la giampa della maicol se l'avevamo l'avevamo già usata no? perché dici l'avremmo già usata avessimo avuta andate tutti dritto raga passate la sinistra che la safe più piccola ci mette di meno certo che potevano darselo un altro piccone si cazzo potrebbero aggiungere cose nuove per il twitch no? raga ma mi si è ruotata la scala no esatto qualcos'altro per twitch potrebbero mettere un altro piccone ma anche prima spattaglia anche prima spattaglia come fa a farmare che la prima? raga io sono morto lo sapete perché? ma se c'è più vita di tutti noi messissimi ah vabbè lui è là tu hai bende no stavo aspettando il jug di dachi cinacinque se lo vuoi stavo aspettando il jug di dachi ma per sempre tipo grande dachi che non riesce manca a costruire una scala l'ho visto era la cosa che non riusciva a costruire la scala oh ci sono degli scudi là prendili 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 e sparano anche a sinistra mi sa che c'è pinnato oh dachi costruire non è proprio cosa per te comunque no veramente io sono per la santa esatto tu tu e mi ha l'asta così ci devi dividiamo dai dachi ma sei arrivato non ci credo ma sono arrivato davvero con 40 dvd si è arrivato con la vita che hanno gli altri praticamente dachi non in mezzo così mammo che chiese d'assalto però no due muri vieni quale ah no andiamo da darti dai non lasciano da anche comunque con la webcam hai coperto i materiali doversi alzarla ma sti cazzi no è vero almeno è più tech che palle tanto non c'è ancora nessuno sta live ciao oddio ali hanno cambiato la casa qua guarda anche il camion si qua prima c'era il star chi si vede comunque la live si vede stra bene eh lo so senza la minchia hanno già lottato c'è una casa io cocazze che non entrare ci saranno 1000 trappi costruzioni già fatte a sud e anche a nord a 60 dai non è vero non è vero non è vero non è vero mettila da dall'altro lato che va andalo da chi che spacca tutto quanto riusci ma va bene anche metterla sicuramente più più alto più base ora raga un attimo finisce come partita la sposta è ma è meglio che la sposti adesso così almeno guardi effettivamente la modifica non è vero voglio vincere a questo occhio mega forti mega forti prima io e Ale siamo arrivati due contro due siamo arrivati siamo morti ho bisogno di un lama ma dobbiamo andare in safe dove stiamo andando ma io pure che ti seguo dio caro raga ma siete rincoglioni eh io non ci ho manco guardato da stasera da chi sei live raga è veramente me ne tirate fuori però e michael e michael di merda ma tua cugino povero michael siamo più rincoglioni di te che lo seguiamo è diverso avete dei razzi ma basta con sti razzi ma comprateli eh c'è gente a 107 tu corri tu corri eh corri ci ha fatto pure male grande Ale chi cazzo è che vola? ah ci stanno giampando sopra no che cazzo spari e spara è un matto ma anche al ah eh ah no vai affanculo eh ma perché giochiamo ancora a costi oh sinistra coglione te l'ho detto ma tu sei uno sfigato di merda eh beh di certo non mi non mi ecco da tanto davanti morto non mi facevo sgamare sparando a quelli sopra occhianuto di merda patrocchi porco dio no ah maico mi hai abbracciato mai con la prossima non la gioca Dio quanto ma dove? ci vado darchi 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 la prossima non giochi darchi dietro la montagna morto anche darchi tantissimo mettila dall'altro lato la webcam no e fabbricchi dall'altro lato c'è più fight e poi almeno lì è tutto occupato la parte destra già non lo stai occupare per la sinistra scusate la sposti un pochino più sopra ah le sfide del pass vediamo vabbè vinci una partita sempre gioca partita con almeno un'eliminazione ok facile 15 partite con almeno una kill e mi danno un nuovo sfondo gioca partite 50 partite mi danno la carta e vinci vabbè vincere non la vincerò mai c'è ma è quando devi uscire mai mai perché non stava scherzando darchi perché lo scherzo mai ma perché dovrei uscire scusa 3 4 bestemmi tutta fila che cazzo come questa venturina live e che gliela segnalano mi hanno segnalato una live già mi hanno chiuso un canale per live fama in brescia turna perché mi spazerete sto aspettando ehi vado non sei capace a leggerla gioca c'è un canto pagato vai giovento c'è un po' l'ho buttato fuori per me ragazzi che l'ho buttato dai gio ma ci sei tu non mi ha accettato la si non mi ha mai accettato l'amicizia è gio però a me ma dove su fortnite ma non mi hai fatto si entro inviato non ho nessuno interesse termine stagione 69 giorni mh gio è cazzo cazzo vabbè aspetta aspetta ma è una roba che non sono tanto eh certo ma questo passo ogni quanto lo devo comprare ogni 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 due mesi più tanto con gli soldi di quello prima c'è non io non ho fatto nessun soldi perché da 1500 di buck davvero si 1500 con a fine a fine pass no no in totale guarda 100 ah se arrivi a 100 sì ci arrivi tanto cazzo è c'è impossibile ragazzo tanto mi sa che i livelli si fanno veloce con il pass cazzo basta giocare dai la notte ma vabbè tu che non vai a scuola è stato è stato su finale 5 cazzo finale 6 50 figa cazzo a giocare a giocare con un inglese cazzo e poi c'è erfa che scrive piano si sente piano ma ho detto che si sente benissimo la fila di erfa va che è meglio no ma essente giusto però ho detto l'unica cosa che magari un pochino altela il volume di di fortnite ancora oh ma io sono già incremento del 60 per bella la sfida che ti dà il piccolo le d'archi carburo fa quella sfida carburo d'archi guarda cosa c'è raga non mi fa muovere devi stare deve arrivare al pass per 10 20 ma che voglia hai negato vita di fare il live ti ha detto che voglia che voglia cercare dai gio fermati erfa ma gio guardami gio tu oggi ci sei vabbè non mi fa ballare normale alza la tua voce il season pass guarda e darky ha detto erfa di alzare un po' la tua voce il resto va bene ecco ti pare guardi a destra guarda tutti quelli che fanno i graffiti wow ma io sto guardando i live da darky e fa come se non veste mio ci sono tra penso un'oretta massimo due tra penso raga mi mancava comunque non ha spacca tutto qua salta il nostro mi d'archi è un bordello e non so di dirmi con devo chiudere la live però adesso da un bagnole è raccomato è raccomato stop agenzia montagnone montagnone di nuovo eh sì zio dobbiamo fare le casse detto ma basta oh gioco anche tu eh caccio pure te no l'ho capito perché non posso perché sto eh perché live poi gli bannano l'account ah scusate basta scusate non sapevo che c'è eh sì le politiche di youtube sono un po' schifo raga ma ci sono tipo tutti tantissimo agente eh tipo il pass abbassati amico frizz abbassati amico frizz abbassati amico frizz amico frizz amico frizz sei tu lo so ho capito eh c'è tantissima gente saluta no no gg bravissimo oggi ho un coglione ci sono uno raga fate su non ci credo non c'è la cesta sono morto ragazzi raga mi dovete venire ad aiutare o pazzo si non ho armi c'è un tipo c'è un tipo che tira le granite c'è un tipo che ha aperto una cesta pezzente e io non ho armi raga eh d'archi occhio dietro si eh anche lo sono messo abbastanza male oh c'è un tipo andiamo via andiamo via Ale ammazza non c'è neanche armi ma come non c'è neanche armi no il tipo la scoprile ha per caso figa poverino non aveva armi so scemo raga venite ad aiutare me burri si con due colpi di pompa lo sei hai armi tuale si arriviamo ragazzi chiedi colpi chiedi qua occhio è dietro no occhio scappa via c'è lo scappa mi è aiutato ma dove vogliamo andare cazzo mi è un'arma cazzo lo scudo non mi sembra niente ma che è mi è andato luce raga mi è atterrato uno raga ho ti evitato con l'ultimo colpo grande darchi corri del anima in anima il burri di che devono rire il primo gioio 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 guarda quanta vita 2 2 2 hp ho 2 hp io con l'ultimo colpo della pistolina l'ho ucciso E' ucciditi Ale allora a sto punto Ma tu madre ucciditi No ragazzi ho ragione Quella scala ti butti giù A me lo arrivi a 30 di vita Ti rienimo io Va bene Ma tu la scapo piccolissima Oh devo dare una cosa a Gio Dai mi quadra La mia morte Aspetta Dov'è Ale Aiuto Dai tu ti è rianimato No tanto non cambia nulla E se non ti rianimassi Ho zero colpi del pompa Io ho Dove sei Gio Sono scappato Vieni Oh dammi a me lo scudo Ma no Dalla logo No è il cecchino No dalla me che devo fare l'obiettivo Non lo faccio io Scusami Non lo fa l'obiettivo Ragazzi obiettivo C'era fatta Rip Ma questo Ma questo Raga safe Dobbiamo andare in safe Correte Ma voi Mi stai dicendo Che avete già lottato tutto Qui Non c'è nulla Non abbiamo Non è Come cazzo possibile Raga Raga Andiamo in Quanto Posso dire poco di morire Ma qua C'è un medico Prendilo Avete colpito Il pompa Il cecchino Il cecchino si È del pompa No Non ho neanche un pompa Però uno scar Ma cosa Sai che io Ho colpi medi Ma non ho una euro Che ti conto Anch'io Andatele a me Colpi medi Ok Tu d'armi con il cecchino Ok Però prima Anch'io I colpi del cecchino Raga sto andando Con 30 di vita Senza scudo Senza armi Beh Anch'io Spamma la live Ecco Ciao Leni Comunque raga I più forti Siamo Io Noi tranneggio Io ho fatto 3 kg Più 2 Ma cosa vuol dire Se fai chi sei più forte Cioè Io ho una con l'ultimo colpo Della pistolina Della Della Per questo Ha fatto i due Perché 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 A due Coglioni Senza armi No Uno Con la pistolina 1 E poi E poi Una bolimerna Che manca Spera Raga Ho fatto Stacche Fatto Stacche Le uccisi Le prove Dcs Hanno funzionato Perché io Ci sono Con la Usps Cazzo La Usps La Silenziatore Che Usps Che 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 Minchia Con l'ultimo colpo Esucinato Sbam He Shot Di O No Può Vedere Quello Che Fa D'Archi Non Just In Live Sono Io In Live Sono Cazzo Sono Coglione Da Quanto Tempo Esini Da Un Botto E Come Da Contesemente Allora Nini Come Compile Ceppino Sì Ma Andiamo Dare Safe Abbiamo Tutti Trenta Di Vabbè 65 Anzi Giorno Perché Si Appena Bevuto Cudo Io Trovato Una R Che Che Vuole Un Altro Corro Veloge Cristiano Ronaldo Raga Io Una R Per Chi Lo Vuole Raga Dobbiamo Attraversare Lut Lei Mamma Mia Che Schifo Raga Circo Navigato Mi Ho Certissimo Abbassa Abbassati Che Bello Che Bello Già Hanno Fatto Ponte Grazie Amici Aiuto Raga Dai Raga Mi Stanno Sporando Qualcuno Che Ma Stai Troppo Indietro Come Faccio D'aiuto Sto Arrivando Spettate Qualcuno Ma Che Ti Aspetto È Morta La Safe Io Bene E Sparano Da Destra Turchino Sparano Tu Corri Non Di Per Mare Non E Che 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 Un'altra Volta Signor Se Che Si è Bloccato Disco A Questo Ecco Dark In Alta Destra Non Me Ne Frega Un Cazzo Tanto Non Sparano A Noia A Me Spara Ok Stanno A Faita Raga Oppio Morto Che Che Noia Cecchino Raga Madonna Madonna Io Io Si Mi Fai Sopravvivere Io Io Hai Bende Scudi Qualsiasi Cosa Medikit Via Qua No Addio Ma Perché L'hai Aspettato Sono Cognone No Ma Gio Mi Mi Fatto Cadere Il Ponte Non Avete Capito Voi Dai Mi Hanno Cecchinato Non Ci Voglio Credere Vado Cercchio Zio Zio Dove Dove Vieni Qua Nascosto Vi Giuro Sì Io Cazzo Che Vengo Là Ok Dati Nasconditi Dai Medica Medica Ticati Servirebbero Dei Cosi Dei Cosi Ai Materiali Fili Puttate Zio Faccio Un Pomp Se Lo Vuoi Veloce 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 Spuglio C'ho Anche Un Altro Cecchino Io Allora Lo Vengo Raga Archi Sparano Ale Vi Abbiamoci Verso Passo Un'altra Volta Meno Dopo Non Dobbiamo Fale Corse Zio Ma C'è Gente Qua Dietro Di No E Vaffan Puro Lasciali La Falli Faitare Fra Di Loro Ma Non Stanno Faitando C'erano Con Lascia L'istare La Minchia Qua è Tutto Distrutto Non C'è Comunque Di Abbassare In volume Sì Ora Ti Abbasso Ma Una Lola Minchia Ma E Poi Salta Tieni Premuto E Poi Salta Sì Devi Raccoglierlo Salta Adesso Salta Oh Mamma Ok Il mio Meno Ce l'ha spaccato In testa Ma Raga Ma Sono Tutti Uguali C'è Solo Questa Sì Ma Guarda Che Fa Un Cazzo Della Madonna C'è Ho Capito Suoni E Non Dura In Eterno D'arte Poi Se Devi Lo Scudo Tipo Senti Il Troppo Forte Pro Dura Un bel Cop E Più Le Prendi Più Ti Dura Comunque Esatto A me Mi ha Riccato Se C'è E Splicace Ma E Se Rompi E Se Rompi Quelle Rocce Qui Ti Da Ferro Che Da Un Botto Oh Stanno Stanno Prendendo Vattene Via Raga Dark Racoglio Il Vai No Aspettiamo Loro Ok Raga Comunque Poi Lo Mike Scusate No No Ce lo Merita Visto Darky Non Prendete Darono La Caduta Ma È Solo Poverino Raga Dai Sì Michael Eh Ma Michael Sarra Già Il Para Bestemmiare Eschere Sono Soproni Diverti Eh Vai Vai Stai Finire No Ale Ti aspetta Non ci sia Sentirei La voce Live Attenta Le trappole Dotti Ok Non è Lutato Quindi Servono Degli Scudi Tutta Ma Magari Quella Cacca Non è Lutata No Invece Si Tipo La mia Qua Non è Lutata Eh Neanche La mia Eschere Darky Perché Si è Covata Acco Facciata Non so Stavo Ar Blu Se me La Prendo Io Sono A mare Non la Posso Provare Eh Vabbè Ma Che Niki Al Ma Ora Sto Giocando Mi dai Che piace Chio Eppure Morto Ok Ho trovato Un Scudo A Già Burro Dai Ma Merit Non Ti do Un Ah Io ti do Lo scudo Ci do Lo scudo 5 Di vita Addirittura Ale Io ti do Lo scudo Tu dammi Il medico Dai 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 Che arriva Gente Quanto Cazzino Che ogni volta Avrò Il ballo Invece Di Aprile E Balla E Balla Quanto Voi Ti 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 tanto ha mutato il gallo cantorino del sarco non lo senti né tu vai via corri dritto cosa c'è un peccino l'importante che siamo insieme ma li anche cos'è che distrutto scuola sempre magazzino figlio 8 ho visto un cecchino da chi ci stava pensato se romperlo tutto con l'albero la mappa per sto scherzando dai devo togliere quello quello zaino qua mi fa troppo schifo perché avete acquittato inutile noi noi non ho acquittato se guardano d'archi arrivo da te ho paura da chi l'hai sentita la cassa e spacca lui come un animale e come faccio la posta per fregare la gente lui mi spacca la roba no ma tu non puoi saperlo come riuscita scusa è un'altra cosa stiamo qui dentro che cazzo c'è viva c'è su un mizzo aereo perché non ho mai vinto d'archi ciao viva gesù ciao smilzo perché io non lo conosco lui so fai signor si fa anch'io signor si nooo che combo che avete fatto raga ciao amico la vuoi questa granata ti attacco addosso no non parlo in accento raga ma scusa dal chi fa kamikaze io gli attacco questa addosso a lui lui va vicino agli amici e fanno boom si esatto cagare così muoio io giusto no tu non prendi uno da me al massimo dagli altri e mentre i corri addosso praticamente vai sotto o romeo romeo difficile perché sei tu l'avevo fatto io l'altra volta copione e giocando anche qua dai che d'arte da chi poi spacca perché non è capaci a modificare non sa modificare di ok d'arte da smizzo ciao smizzo allora sempre di qua mesci d'archi che te frega raga io voglio vincere il servizio che sono comprati il passo battagliato da chi l'albero 252 io invece ho sbagliato a sciopare come dalla dentro perché c'è fatto da 10 perché pensavo potessi farlo due volte potrei fare volendo ma non stanno stanno fai tanto cazzino allora viene finita me al 3 1 2 3 seguimi 1 2 3 corri d'archi che la b madonna tua madre un nabbo cosa d'archi deve studiato e torca covalciati brutta troia ecco stanno spaccato un albero da grande d'archi io me ne va colpo io me ne va e fatto 80 gli ho preso si è fatto 80 ma che cazzo dici si è uscito scritto che l'hai preso darchi sì ma è possibile che vede che fanno danno regalo ritato si è fatto 80 darchi e non aveva scudo a 20 che ho sparato a casissimo io bui do di quanto mi ha tirato l'attenzione darchi un po più sopra darchi col mirino ma c'è con scappa darchi ma aspettami no va bene va bene come fa bene come c'è pompa nuovo su avete ragazze quattro contro due comunque c'è dici ma no 4.1 raga due contro due dovete vincere la raga non succede ma se non c'è veloce c'è anche il bianco che voglio che voglio bella un'oretta e mezzo due ore questo che c'era la raga ho sbagliato i tuoi ha visto che sciopoli non succede e devi urlare darchi madonna se succede aspetta aspetta se succede zitto zitto ma mi sciopi il pass eccolo come dopo ti dai 10 euro per detto ma cosa ne so da qualche parte c'è una cosa di no 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 non uscire di girare cosa è già visto da mezz'ora un'altra pepola si può trovi che l'hanno visto allora lì ti amo darchi mi raccomando avete dei pc buoni per gli fps ma sono stati fai 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 costruisciti darchi un muro fuori dal massimo tu madre a pecora quella vacca di merda il cazzo bravo darti mi piace come costruisci veloce guarda salta per metterlo sopra darti di saltare ti è che su di una cichinata cazzo la testa fuori mi fa alzare raga mi fa gesù sinistra darchi a lei dobbiamo andare in bocca ma perché ale lì vai con lo scar darchi con lo scar darchi aiuta mi sta per morire sei un coglione sei ogni volta queste cose ma perché ci stavano pusciano che viga mi chiamava ritardato si grande grande ale è uno è uno solo ale sono due in realtà ma tu madre a pecora dov'è vai a due non ho lasciato sono loro che hanno lasciato e riaffiando a me e riaffiando a metto ritrovato in africa occhio mi sta rispettando a darchi e hai visto che non che mi hanno lasciato addosso sì sì non si vedono gli ultimi rimasti e poi sto pisello ragazzo la metto stacando scusate poi vedi che c'era alle fatto 4 piccino no no porto se non la metti sulla mappa la mette in frigida giorno mentre la musica di che non l'ho non l'ho preso non l'ho preso quell'occhio no no perché non mi sembrava che si è di danno avevo fatto vedere quanti spettavo tanto ma che cazzo è un portatile è quello che ti riesi a portarti che cos'è è quel fortino portato quello che lanci si fa con l'inferro minchia male lettere forte dove cazzo c'è stato già in con la cara 180 danni agli avversi dai potevi ale però potevi già farmi fare l'obiettivo calma mia vicino a partire cazzo si dà uno schifoso ombrello di merda che c'ho anch'io no ma sono già io non ho mai vincito però a darti non ho mai vinto fate sempre cazzoni con me alla fine è vero anche come darci ieri ieri sera uguale ale all'improvviso spariva i daci in media o più chiedi stavano sparando io allora mi sono spostato dalla perché c'era e poi allora si che hanno lasciato loro da si era dentro loro era dentro il loro fortino come cazzo allora si vede che hanno lasciato loro no 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 e il fortino e poi il fortino e radiale perché si è perché se c'è appunto farla porta porti su quello normale sì ok quello esatto se non non poteva fatto sta che l'errore con occhio eravamo rimasti due 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 sono morto gli ho fatto non ti muovere di lì ha incominciato a spaccare il fortissimo piccone per farlo cadere quello cadere ed è morto poi ma perché spunta ancora che serve sanno fly e pagato ancora poi camperoni ma conale è capitato 3 4 volte penso che faccia così stavano lasciando non potremmo rimanere dietro quella roccia che tra l'altro me l'hanno anche spaccato ma anche darci la fatta dietro l'albero dopo non ho tolto ma posso cambiarlo zero in game ti fa schifo senti come rida amico fritz sia la taglia proprio e giuro è la partita della safe lontana siete morti no vedere sì 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 io l'abbiamo fatto tutta la partita solo cioè siamo arrivati i secondi sì perché donato e joan fatti non è nato un coglione le croli e fatto e caldo che le ha detto ovvio che gli ha spaccato il pò mi ha spaccato il ponte mi ha spaccato il ponte mi ho sbattuto la capa raga io non ci sono arrivati sono in un posto qui aiuto aiuto spacco la pietra ma pure se tu in casa con me sotto c'è uno raga io dopo vado a giocare a minecraft no ma manica ti piace è andato sopra la montagna demonio porco paolo e guarda che al santo anche quella quindi occhio sono tutti i santi esatto anche porco donato è un santo io no io porco giusti mai anche alex raga eh sì anche alessio no adesso c'è il santo santo alessio c'è santo alex no però è ma perché considerato alessio si alessio alessandro di bastardi o da dove da dove da dove fare tu spara a caso donato 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 cosa c'è si vuole da me vuole fare donato un cilindro tome dire i miei mei potete di vita la di vita donato c'è messo atto anni che non c'è la figlia di io non posso davvero è vabbè maggior figato ti vai a buttare sopra la montagna no ma chi c'è un altro in casa vieni e doni mamma che anche te ciao pina ciao pina mamma mio deve salutare pina non non pericolosi realizzatemi la stanza e non mi subito urlare da chi che hai fatto madonna si manda porti uno smacello di vita sto buco c'è il medico dentro in casa ce l'avevo io dietro al tavolo da sinistra eccolo da c'è troppo che è sempre utile in tutto e per tutto d'architari si sparano tua madre come il brutto zaino che messo l'articolo e basta ma non lo metteva fa cagare ma tu hai detto che te ne vai da una parte porcellino e di quella mitraglietta che overpower è quello che usato è quella che usato io procedere il tipo che è messo 8 anni per ma il 5 dv arrivi 5 di adesso guardando la live aveva si aveva adesso a 100 vabbè ma a lei faccio 20 fps ogni colpo di pompa va a 2 ogni colpo di pompa vado a due figli basarmi faccia gente a noi molto più aspetta come che palle ma giochiamo solo con l'azione fa culo a in culonia non ho anche basta di amandolare l'aria aperta porto si sta perdendo e calmo mi inizia giusta la safe colpa io corro vaffanculo arrivo ma vinco da solo che c'è la parco c'è la nuova acqua da quando è che non senti di mizze capo c'è un po che è uscito spontaneo adesso per bacco amico adesso vedi che ti jump in faccia che poi con le sono donato angelo di puttana le gambe è un filo perché mentre mentre si sparava mentre gli sparavano il reto ucciso ma avessi una tattica per la più veloce per questi cosi napoli che fate così ce n'è uno dietro gioco no 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 calmo con le parole piano e lo so che era piano lo so che era capisco che si è arrabbiato ma piano con le parole morte gioco e calmo non l'hai preso mezza volta solo i gamberetti o mu gamberetti i gamberetti neanche barattolo è un mattone è un coglione che combo passato la pinnacoli ma è vuota certo che vuole ma poi ancora non ci sei ancora passato poi da pinnacoli deve ancora entrare vabbè ci sei a fianco mi dite qualcosa che non sia rota no che cosa ci dobbiamo dare se vuoi ti nomi scredente faccia di cazzo faccia di cazzo faccia di cazzo ma quanti spettatori ci siamo due io e un altro ottimo ma vedi che le live in ma sai perché guarda che ci sono 82 mila persone a parte che ho messo youtube gaming mi so bravo bravo complimenti grazie ti ho insegnato un cazzo me lo sono indicato piano con le parole capisco che si è arrabbiato come lo voglio vederla questa sentire salta in acqua da chi sa la partita bravo questo è darti la vince non vinci la stats cazzo me tanto tanto 82 che poi oggi questo qui ne ha vinte due giù e poi con noi fa schifo maggio cazzo ma dove è un meteorite no è la terra di terra è una zona di terra non la puoi distruggere come si metta legge non ci sono più le materie in cielo e no se come su cadute d'arche vai a prendere i cosi spaccare quelli per saltare non puoi e terra e noi ci carai così 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 allora aggiungeranno la terra beh solamente perché hai detto tu sì il modellatore e che cazzo poi con la terra perdonati infatti amici fai l'argina fai la prima cosa poi faccia di fatto fa la terra che fa come primitivi piaceva magazzino muffi e tu no 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 fermo di nuovo bene ammazzate quella e poi freddo però d'arte ma lei porta è morto d'arti no capito che si è arrabbiato il muto però raga pass battaglia già livello 2 5 livelli gratis ottiene subito un vantaggio per la prossima stagione con questi livelli gratuiti sai perché secondo me la sport dici vogliamo cambiare skin aspetta raga ho sbloccato questo che mi piace buono un colletto labiale cosa ha detto merda dai vabbè ma non ho detto dio ho detto solo merda si raga però siete un po' delle persone di merda glielo volete fa un pochino a questo canale non è una bestemmia sto invocando il mio dell'amore in connessione mettete pronti no io ho più sta rompendo il capo ragazzo chiamo a css sotto il cazzo stare fermi e muoviti raga migrato la schiena che tu sei handicappato cazzo legimi il labiale di questa vai non facciamo come quelle quelle state le amiche a quanto duro mai fatto era un poema era che cazzo la poesia giovanni pascoli un po più volgare però sempre di volgare materiali qua questo per tutto il lobby ce l'hai anche in game ma non è vero che presto ci metto a farlo magari ma tua madre con qualche sbatti e cosa magari la pina ci sta guardando in live no ci io non ho capito lo rifaccio ma come? che faccio spu? che faccio spu? raga andiamo a montagnoli nooo andiamo a boschetto andiamo a boschetto no boschetto bisunto andiamo a tomato 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 vabbè che devo trovare la mappa del tesoro andiamo a tomato si ma è lontanissimo tomato raga no andiamo a pensare rapide rischiosi che merda dov'è che vuole andare? c'entra qualcosa una mignotta Gio tu sai dove si trova la mappa del tesoro? c'entra qualcosa una mignotta ma c'è anche dietro in giro così che cercare la mappa cosa? come schiava ck il tesoro ritrova di faccio e dove si trova il tesoro? aspetta lo cecco fatto allora ti dico subito che il tesoro aspetta ma io non lo sento più anche ma tu vuoi questo che io guardami vieni vedi come vinegato fa buvi vinegato qua tu vuoi questo che ho io d'arte l'ombrello? ma tu sei sicuro? ma sinceramente a me non cazzo l'ombrello io voglio vincere ma qua non è tu ma eh no è cos'è no no è proprio gioco qua vieni fra alla mamma puttana faccio che la gente comunque era su una barca era su una barca era su una barca guarda che ce l'ho dato però c'era la barca gioco gioco stai mettendo ansia e non urlare che giuro che ti spacco le ossa ma io non urlo dovete bastarmi un rum e non so come si fa devi sta zitto basta a bucare l'idea arma vale fingaina cio cio ahahahahahah ahahahahahah si ma si ma ma qua non sei fermato gioco oh figa cattivissimo cio è una cazzo di barca qua no? non c'è nulla eeeh cio è una cazzo di barca qua adesso ohhh capite che sei arrabbiato ti ha ancora le parole oh figana figa di puttana ohhh ma si insulta da solo ohhh vabbè che ci sta ma ehmichia suona bene ehmichia suona bene ehmichia suona bene oh eccola cos'è ehmichia suona bene ehmichia suona bene oh eccola ma no ma non ho trovato dei punti esperienza ma che invece di aprire le porte le spacca bravo ehmichia mi l'ho poca vita poca vita ehmichia ma perché vi siete andate a ficcare dina in culo a sa che e a sponenza che le ti asso ho calentito in culo mi chiamiamo apposta a prometo e voi andranno a fatti io volevo andare a fatti io volevo andare a fatti vi sta bene vi sta bene vi sta bene darky la vinciamo io e te come trovo giochiamo a coppia raga raga doveva essere cazzo di roba hai tomato lui darky vieni con me alle cose lama lama darky lama la roba giù dove la mano è presa cammelo prendere che c'era erano solo punti esperie si è la sfida spiego ha tomato questo va vai no sei giù sei giù sei giù vai giù la scuola di sotto qui facca tua in realtà a me non serviva ma tanto sono morto solo che non l'ho mai aperto volevo vedere com'era ma qui no 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 ma i 3 anni li ho presi io perchè tu non li usi oh cinquecento di tutto la smetti di urlare io vengo fino a casa tu e ti stupro pure la mamma chiamata e parole capito che ho sparato per entrare ho spaccato tutto ha spaccato la porta però però ho trovato un bump adesso ma tu hai armi munizioni so che non la voglio sto in live Mary Poppins sì sei anche tu in live ciao 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 ti salutano ciao 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 amica ciao ti ha detto ciao amica o d'archi e persone hai detto ciao amica no dove è tosera non ho e dagli tempo in ritardo eccola e se ne è andata è il cuore in mario ciao c'è un altro c'è un altro c'è un altro c'è un altro che è un altro c'è 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 anche tu devi prendere un pc e ho più provato e col joys si quale oppure lo stavano prendendo picconate ragazzi tantissimi e devi morire vai 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 aspetta una cosa perché io come faccio serie di livello del passo è facendo le sti facendo le sfide ma io non sto facendo una sfida ma darchi darchi ma tu non è più il passo magari non ci accorgi che c'è non ci sono delle ma non mi esce incremento del 60 per cento te non c'è sì 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 incremento del 60 sia me che d'arte ma anche i fidani agli avversari 639 di 5.000 io devo fare dieci partite con gli amici eliminazioni con pistole ma tu non hai amici non sono mica donato che persone orribile 6 anche dopo a 10 partite con gli amici ma vabbè burri io non amici e vabbè non è colpa mia mannaggia la madre che gli ha messi i soldi o raga ma no in realtà gli anni di ormai ma la sono già le tre due stanno a scuola sono pazzi a questo ragazzo che l'amma figlio vuoi tornare da scuola schifoso di merda passando questo discorso a me non è cambiato una parte che voi non ci sarete più quindi non avete intenzione di giocare sulla fortuna oppure ragà ma la notte andate non anzi ma io ci sono a mezzanotte ci si che ci vado a scopare lo c'è matto perché andiamo a casa non è un tagliole ma basta sto fuori le montagnole e breccian ed è gol o male il 29 maggio restano i mondiali su fifa i mondiali su fifa come in fifa 14 ci ha giocato pure io anch'io si gioca ancora io a me non funzionano più i pad e e ho perso molto bene non ho un'arma raga io ci ne ho tre qui dove no raga io ho fatto cinquanta non mi togliere la vita perché ti ammazzo c'hai la mamma puttana dove sei darky? giocano come delle merde qua dentro ce ne sono quattro e c'è un team io gli ho fatto cinquanta e un altro gli ho fatto un po' di vita ma erano tutti senza armi sto tipo mi ha fatto saltare in aria col lanciarazzi bravo burri eh prendi il pompa nuovo togli la vita uccidilo 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 dovevi ballare prima no prima si balla e poi si uccide faccio del fisico ho fatto già tre kill ne ho notato a tirare adesso youtube anch'io servono colpi del raga youtube anch'io gioco ma la smerci e fa guarda come flex sentilo dove qui il team davanti noi a su dove stai ho visto l'ho visto visto prova a fare il giro da dietro no sono nemici andiamo a pusha andiamo a pusha andiamo a pusha lo ripeto io ci sono le tipo di titi un attimo la pistola quanto stealth intersell a no ma questo è giù ma baffanculo demonio brava come si ma come si trattiene però mizzi gà gizzeca mi soccato tu ci davanti o che abbattato ti ha visto tantissimo al uccidilo 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 si è sparato in faccia con lanciarazzi o bende zio c'è gente ci sono le bende guardalo l'ha visualizzato lo sta guardando si guarda sì ma guarda dove la sei però dove la sei arrivo al è morto madre è morto non c'è visto raga ma volava quello raga ma vola quello ma quello era sopra una foglia con questa raga con il c terzo dove stava volando sì sì come sì 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 magari ti hai fatto alcuna chi dai succespuglia troppo piccolo per me scappa vabbè se chiusa la selle dai quittiamo la che inizia una partita nuova su madre quitta no fra vai vai faccio con lancia granate lo spari in faccia non ha ragazze ragazzi no non ha ragazzi ragazzi la vuole headshot 60 vai vai ordinare minchia cinque chi è il tuo record a le 5 kg gg via un giro e poi decicchino quello leggendario no c'è questo ma che ora guarda vale mai fatto il record di che i venti commenti che sono la tua madre ha fatto il record di live perché quanto è il tuo massimo 9 ma serve io a 7 come minimo ne avrà fatte due un pochino così ma io non sono just pensavo che ce l'avesse con me allora c'è ce l'ha con te pur di io pensavo se visto la line che ha detto e fa guarda come flex colpeso no perché io pensavo che qui avesse fatto la e molto in cui fai un bene in cui ragazzo non succede ma se succede non vinci un cazzo se non ti fanno da buon anno si è finita guarda se vinci se vinci dove soldi ad archi nel live e poi no li donna a me figlio di puttata dammi da me sto scrivere se te ritorno a volenti dal mio la mia email paypal figami shop direttamente tutto no no non scegli quanto c'è scelgo io un euro in centesimo un euro a uno da un è scritto quella volatina è di beta che si rimane dentro poi che fa del giro tondo ciao fra sfidiamo domani a quella 6 madre ci vediamo domani non c'è mangiare parole ma che ha fatto quel tipo ma di nuovo luth lake ma che cazzo un compito qualcosa che così è muore no sicamente dentro qualcosa che dobbiamo dare qualsiasi cosa non questi che vado ora gai in se c'è no 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 non posso boccare la canzone vedi o raga non capisce un cazzo mi bannano il cazzo di canale lo capisci ma ce la fai a parlare cazzo non si capisce oggi quando parli mi sa che il microfono l'ota ok c'è un bacc bc dove la rica orco di azz guarda questo c'è sfoglia più bello ci sto dentro allora ho due minuti per fare materiali allora due minuti per fare materiali e poi troppo la mano prima città rally eccolo ho visto il lama non ho maggio turisti ha tirato giù il mi mangi turisti e dove sei un medikit quando per 15 di vita ma 75 ha detto giusto per 15 anni no no sbagliato 25 c'era un tipo qua sotto ma lui vola eccoli si guarda vai o c'è un altro e al caglio giusti è vero lancia gli razzi ma che si lascia che non li ho i razzi cristo e quindi a se un sito di che ci apriano ecco no destra destra la flacca c'è la caselletta sinistra come flex a cazzo provando a prendere questo ecco ci manca dove c'è spuglio ecco allora aspetta 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 zitto devi stare zitto aiuto non ti veda bat suo amico no bravo 10 secondi a lei c'è anche la safe zio la safe quale gesto di stare zitto vada ma stagione sicuro davvero sono dei segnali sito avranno lasciato qualcosa per me che cosa scrive lini a b cc di non c'è niente non c'è niente ai sti coglioni che si deve segana a lì ancora alfa alfa alfabeto a 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 b il sistema di mario il mondo del material ma si può diventare virali con una stronzata del genere ma era una granata ottimo ragammo ha tirato due colpi è rimasto il colpo in canna mattina su due colpi che non vedi ragazzi sono tol cazzo che questa live è tutto ciao a tutti ma ciao a tutti Grazie.